Dai dai dai, medaglia d'oro, non ci credo, medaglia d'oro, si ho vinto! Il round finale è il cilindro ESA in tondo, è la nuova mappa penso che hanno aggiunto con questo aggiornamento. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Fall Guys, finalmente è diventato gratuito, siete felici? È diventato gratuito per tutte le piattaforme, da oggi 21 giugno. Iscrivetevi al canale se vorreste vedere nuovi video di Fall Guys perché oggi facciamo una partita assurda con la nuova mappa che gira in tondo. Abbiamo naturalmente shoppato il pass battaglia, però noi tecnicamente non l'abbiamo shoppato, ce l'hanno regalato perché avevamo già comprato il gioco. Infatti ho giocato un pochino e ho già sbloccato tutte queste belle cose. Ci sono tante cose che si possono sbloccare, pure i showbuck. Il showbuck è la nuova moneta che si usa per comprare tutto, infatti voi potete comprarla, la showbuck è proprio qui, per comprarvi tutte le cose interessanti nello shop. E voi potete sbloccarla gratuitamente anche nel pass battaglia che naturalmente costa 10 euro. E per chi aveva comprato già il gioco invece ha il pass battaglia incluso, però noi non abbiamo mille gemme, non abbiamo queste mille showbuck. Infatti possiamo trovare showbuck, possiamo trovare robe bellissime come questa, altri showbuck, poi possiamo trovare background, elmetto, delle belle pose, ci sono tante cose che possiamo trovare. Guardate qui, il pass battaglia è lunghissimo, infatti non vedo l'ora di sbloccarlo tutto. Vediamo la cosa finale cos'è. Uh, showbuck, semplicemente showbuck. Secondo me troviamo un mucchio di showbuck, ne troviamo mille probabilmente, sì. Lasciate un bel mi piace se siete felici che è diventato gratuito e ovviamente, naturalmente, ci hanno regalato anche delle skin. Infatti ci hanno regalato questi costumi perché naturalmente avevamo comprato il gioco, aspettate. Ci hanno regalato tipo questo, ci hanno regalato questo vikingo bellissimo, ci hanno regalato questa regale, ruzzolatore carnevalesco, veggie hot dog, bellissime, bellissime, vibrazioni positive. Questa è stupenda, fantastico. Ci hanno regalato davvero tante cose e sono contento che sia diventato gratuito perché adesso ci giocherà molta più gente, probabilmente, e quindi si potrà trovare più gente possibile. Poi hanno aggiunto tipo nuove sfide, giornaliere, settimanali, maratone, poi tante altre cose diverse. Adesso andiamo a farci un paio di partite e naturalmente se vorreste vedere altri video di Fall Guys raggiungiamo i 20 mi piace così continuiamo questa serie. Lo so, non sto dicendo 2000, sto dicendo 20 mi piace, non capite l'ironia però io sono contento se raggiungiamo 20 mi piace. Avete qualche problema? Bene. Allora andiamo a farci una bella partita. Giro completo, dobbiamo superare questa sfida. Non sembra che siamo in tanti comunque, è strano. Uh, c'è qualcuno con la skin di ninja. Oddio, 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 sì è vero, è vero. Qua tipo i pavimenti si girano troppo, troppo e quando si girano così troppo non si riesce più ad andare avanti. Cioè perché probabilmente si riesca di cadere. Allora qua ci muoviamo veloce. Yes, così. Attenzione che prendiamo un altro bel checkpoint, perfetto. Oh, siamo tra i primi, attenzione, siamo tra i primi, va benissimo. Ok, qua adesso si piega troppo il pavimento. Qua adesso quale si attiva? No, lo sapevo, aspettiamo. Aspettiamo, veloce, andiamo. Eh, lì non potevamo fare il giro perché perdevamo tempo, bisogna semplicemente aspettare la propria porta che si apra. Uh, sono il primo, sono il primo. Per adesso sono il primo, veloce, veloce, ma che zin, sei il primo. Devi, non devi, non devi spaventare. Il problema è che io non riesco mai a concentrarmi in questo gioco perché io devo intrattenere, parlare troppo. Parlo troppo, io parlo troppo. Scrivetevi nei commenti, lo so che parlo troppo. Lo pensate anche voi che parlo troppo. Io parlo troppo e non riesco a concentrarmi. Mi spiegate chi è che gioca in questo gioco e parla così tanto nessuno. Perché tutti stanno in silenzio, si concentrano. Io non ho la possibilità di fare questo perché se non parlo, perdo la challenge. Invece no, vinco. Vinco anche qui, arrivo primo. Che sta succedendo? Riesco ad arrivare primo, ma sto facendo un paio di partite e non riesco mai. Ad arrivare in finale, perdo sempre la seconda e terza sfida. Però sto arrivando primo quasi sempre. Ad ogni challenge. Cioè, le prime challenge. Wow! Eh, si vede che questi hanno appena iniziato a giocare o hanno ripreso il gioco. Si vede, si vede tantissimo. Siamo nel gran premio di Fall Guys. Dobbiamo fare due giri in questo circuito chiamato cortocircuito. Molto bene, molto bene. Eh, che cacchio, che è successo? Ma che è successo qua? Ma si riesce più a saltare? Wow! Fantastico, ce l'abbiamo fatta. Bene, 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 bene. Fantastico. No! Che cacchio è successo? Ma hanno modificato questo mappo o sbaglio? L'avevo già fatta? Non sembrava così tanto difficile. Veloce, veloce, veloce. Andiamo, andiamo, andiamo. Abbiamo perso tantissimo tempo. Dobbiamo recuperare. Mamma mia! Seguiamo il cerchio. Per non sbagliare, non ci credo. Non riesco a superare la sfida. Mamma mia! È difficilissimo è diventata. Wow, wow, wow! È diventata difficile. Ok, vai, vai, molto bene. Mamma mia, dobbiamo fare due giri di questa mappa davvero difficile. Qua saltiamo qui sopra. Ah, quel trampolino era meglio prenderlo perché mi avrebbe portato avanti. No, porta anche l'indietro. Quindi è un gioco d'azzardo. Io non faccio gioco d'azzardo, quindi andiamo. Andiamo questa. Adesso passiamo. E naturalmente adesso facciamo il primo giro. Cosa siamo? Direi che siamo decimi, dodicesimi, una roba del genere. E adesso qua abbiamo più tempo e spazio per fare quello che dobbiamo fare. Perché prima mi sono bloccato di tutto nel traffico. C'era un traffico pazzesco e quindi ho perso tempo anche per quello. Qui, ecco, è inutile fare sta cosa. Dobbiamo seguire il corso del cerchio. Cioè dobbiamo seguire il senso orario del cerchio. Perché se lo fate al contrario perdete semplicemente tempo. Ok. Ma che succede qua? Ok, non si salta più, non si salta più. Pensavo che ci fosse l'acqua. Ecco, qui c'è l'acqua. Molto bene. Dai, dai, in tre si sono già qualificati. Si stanno già tutti qualificando. Andiamo, andiamo. Qua dobbiamo aspettare. Aspettiamo e adesso andiamo. Molto bene. Fantastico, ci siamo. Uh, sembrava facile. Invece hanno modificato anche questa mappa. Hanno modificato tutte le mappe da quando è diventato gratuito. Cioè, è cambiato tutto. Cioè, scrivetemi nei commenti. Ma è vero che hanno cambiato tutto? Perché sembra che sia così. Pazzesco. Aerovetta. Dobbiamo scalare questa montagna per raggiungere il traguardo. E probabilmente siamo nella pre-finale, semi-finale. Perché poi c'è la finale. Molto bene. In 15 si possono qualificare. E iniziamo subito. Allora, quei trampolini non dobbiamo beccarli. Ok. Quel pugno nemmeno. Oh, abbiamo due pugni. Perfetto. Andiamo, andiamo, andiamo in fila indiana. Occhio al vento. E le palle di neve. Attenzione. Dai, 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 Sonic. Sonic, ce la fai, Sonic. Ce la fai, Sonic. Ce la fai, Sonic. E arrivo anch'io. Perfetto. Stavo guardando se arrivava la palla di neve. No. Mamma mia, per poco. Per un attimo e volavo fuori. Se volavo fuori era quasi persa. Perché qua devo cercare di non sbagliare niente. Perché qua, se perdiamo tempo, arriviamo troppo in ritardo. Allora, qua andiamo con i pugni. Andiamo con i pugni, ma aspettiamo. Provo Sonic. C'è con me Sonic. Fa troppo ridere Sonic. Questo Sonic è un po' cicciore. Si è preso un bel gancio da Mike Tyson. Va bene. Continuiamo così. Però potrei andare anche leggermente più veloce, come sta facendo Sonic. Sì, infatti, così. Perfetto. Infatti, potevo andare molto più veloce. No, 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 no. Andiamo. Saliamo. Dai, dai, dai. Dai. Veloce. Sì. Dai, che siamo quasi al traguardo. Dov'è il traguardo? Eccolo qui. No, ma cosa è successo? Mi sono allungato. No. Andiamo, 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 andiamo. Ce la facciamo, ce la facciamo. Sì, 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 sì. Bene, ci qualifichiamo. Probabilmente per la finale. Mamma mia, abbiamo rischiato tanto. Quel Sonic lì mi sembra bravo. Però se ce lo troviamo in finale, probabilmente vince. Ma no, dobbiamo noi vincere. Miglior 50% comunque. No, vabbè. Voi lo sapete cosa succede qua. Beccati il blocco. Difficilissima come mappa. Anche se non c'è scritto finale, questa è la finale. Perché qui probabilmente sopravvive solo uno. Nella mia partita precedente, alla fine, eravamo in questa mappa e sopravvissuto solo uno. Perché eravamo in pochi come adesso e ha vinto. No, no. Mamma mia. Odio questa sopravvivenza. È troppo difficile. Comunque. Spero che vi stia piacendo questo gioco. Iscrivetevi al canale se vorreste vedere altri video. Iscrivetevi nei commenti se vorreste vedere adesso nuovi video, visto che è diventato gratuito. E lasciate un bel mi piace in questo momento. C'è Sonic ciccione che mi fa troppo ridere. Non riesco a non guardarlo. Allora qua bisogna semplicemente salire sui gradini. Perché qua bisogna salire sui gradini. Dobbiamo sopravvivere un minuto e venti. Sembrano pochi ma... Guardalo! Spero che ti butti giù. Mamma mia. Avete visto cosa stava facendo? Mi stava tenendo. Ma cosa fai Sonic? Pensavo mi volessi bene. Mi pensavo... Adesso ti tengo anch'io. Ti tengo anch'io. Ah sì 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 sì. Ti tengo anch'io. Ti tengo anche a te. Facciamo una cosa. Cominciamo a tenere un po' tutti. Abbiamo ancora un minuto. Allora. Vediamo un po'. Attenzione. Cominciano... Ecco cominciamo ad avere i gradini. Cominciamo con i gradini. Probabilmente. Probabilmente cominciamo con i gradini. Guardali. Guardali che tutti stanno cercando di tenere tutti. Teniamo tutti. Sì sì. Balla. Balla Sonic. Balla. Oddio. Ho rischiato. Ho rischiato. Ho rischiato mai più. Non faccio mai più quella cosa. Scusate scusate. Non lo faccio mai più. Non lo faccio mai più. Volevo fare il cattivo. Il bullo non ce l'ho fatta. Fare il bullo porta male. No. Mamma mia. Io devo capire come fare sti salti. Il problema è che devo stare lontano dalle persone. Perché le persone mi fanno... Sbagliare il salto. Ok. Andiamo. Perfetto. Ho saltato in anticipo. Avevo paura di non riuscire più a saltare. Attenzione. Ma qua siamo in tanti. Che sta succedendo? Cos'è sto traffico? Ma cos'è? Tutti vicini vicini. Tutti vicini vicini. Aiuto. Ok. Siamo più in vantaggio quando siamo sulla sinistra. Perfetto. Due secondi. La prima volta che supero sta sfida. Ma qualcuno si è buttato. Che è successo? Ho visto qualcuno che si suicidava. Non ho capito. Va bene. Abbiamo superato questa sfida. Allora andiamo in finale. Quanti sono stati eliminati? Non ne ho la più palide. Uno. Due. Due. Due eliminati. Quindi sicuramente andiamo in finale. Il round finale. E' il cilindro. Esa in tondo. E' la nuova mappa. Penso che hanno aggiunto. Con questo aggiornamento. In questo aggiornamento hanno aggiunto sette mappe nuove. Diventato gratuito il gioco. E hanno aggiunto il pass battaglia. Infatti c'è il pass battaglia della stagione 1. Non ho mai giocato questa mappa naturalmente. Quindi. Boh. Non ho visto neanche i video. Non so neanche come funziona questa roba. Ok. Mamma mia. Ho capito. Ho capito. Ho capito. Dobbiamo stare. Dobbiamo stare su quelli più alti. Probabilmente perché poi scende troppo e non riesci più a salire. Ok. Fantastico. Direi che facciamo così. Tanto non so cosa succede. Non dobbiamo cadere giù. Perché qua secondo me ci dobbiamo concentrare per non cadere giù. L'importante è non cadere giù. Oh. Attenzione. No. Sta diventando velocissimo. Ah. Attenzione. Attenzione. No. 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 Vesso 12. No. Ero quarto. No. È diventato velocissimo. Peccato. Ma chi è che vince fra questi due? Alla fine Sonic ha perso. Godo. Godo Sonic che ha perso perché mi teneva continuamente e provava a fare il bullo con me. Ho provato io a fare il bullo con lui e invece ho quasi rischiato. Ho capito. Qua bisogna semplicemente continuare a saltare. Ah. Diventa difficile. Infatti diventa difficile con tutti quei gradini che si creano. Volevo fare il doppio salto ma semplicemente facevo la strage. Se facevo il doppio salto. Spero che questo primo video su Fall Guys gratuito vi sia piaciuto. Se vorreste vedere altri video raggiungiamo i 20 mi piace. Lo so. Voi vi chiedete cosa vuol dire 20 mi piace. Vuol dire. Io voglio 20 mi piace. Non voglio di più. Sono contento se raggiungiamo i 20 mi piace. Iscrivetevi al canale per nuovi video di Fall Guys. Iscrivetevi nei commenti se non vorreste vedere altri. Ci vediamo a un prossimo video. Ciao ciao. Ciao.